Ma quanto sono buoni i dorayaki! Facciamoli! In una ciotola versiamo la farina, lo zucchero a velo, il lievito per dolci, le uova, il miele e infine l'acqua. Con l'aiuto di una frusta mescoliamo per bene fino ad ottenere questa consistenza. Ungiamo la padella con poco olio, versiamo una mestolata d'impasto e attendiamo che si formino in superficie le bollicine. Poi possiamo girare. Guarda quanti dorayaki! Poi farciamo con marmellata. Ma io lo so, vi conosco che poi li farcite con Nutella. E quindi Nutella. Chiudiamo, tagliamo e adesso c'è la prova morbidezza. Prova morbidezza direi ampiamente superata. Wow! Carrellata elegante e ho una domanda per voi amici. Ma voi vi ricordate come si chiamava quel cartone animato che andava pazzo per i dorayaki? Scrivetemelo nei commenti! Ciao! Ciao! Grazie.